Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo nell'analisi e nella descrizione di biografie di militari. Il militare di oggi è Emanuele Pugliese. Emanuele Pugliese nacque nel 1874 a Vercelli. Vercelli acquista una grande importanza nella nostra descrizione. Perché? Perché ben 21 anni dopo, nel 1895, sarebbe nato un altro militare, un altro generale, perché sono tutti due generali. Il generale Giorgio Liuzzi, che sarebbe tra l'altro divenuto tra il 1954 e il 1059 niente meno che capo di stato maggiore dell'esercito. Perché, o quantomeno, cosa accomuna Emanuele Pugliese con Giorgio Liuzzi? Entrambi erano ebrei. E il fatto di essere ebrei acquista una grossa importanza nella nostra analisi. Perché? Perché il Piemonte, il regno di Sardegna, fu, a partire dal 1849, grazie al re Carlo Alberto, il primo stato preunitario a concedere agli ebrei del paese, gli ebrei che poi sarebbero divenuti italiani, i pieni diritti di civili e politici. Quindi una sorta di uguaglianza formale e sostanziale rispetto agli altri sudditi del regno di Sardegna, che poi sarebbe divenuto al regno d'Italia. Ovviamente con Pugliese siamo nel 1874, quindi l'unità d'Italia già c'è stata, però il fatto che due nati avvercelli, due piemontesi, possono aver raggiunto dei gradi molto alti nell'esercio italiano, dimostra come la componente piemontese, la componente anche della provincia piemontese, potesse essere attaccata, legata in maniera molto forte alla casa Savoia, anche appunto nella propria componente di religione ebraica, proprio per il desiderio di solidarietà, di gratitudine verso i Savoia, che avevano appunto concesso, primi in Italia, i diritti civili e politici agli ebrei. Pugliese, nato appunto nel 74, inizia alla fine del secolo, nella prima metà degli anni 90 dell'Ottocento, la sua carriera militare, essendo allievo a Modena nella scuola militare, che all'epoca istruiva, formava gli allievi ufficiali e poi ufficiali di fanteria e cavalleria. Seguendo i corsi, Pugliese divenne sottotenente di fanteria e iniziò la sua carriera. Tra l'altro, in servizio a Trapani, nel 1897, se non vado errato, partecipò a un'attività di ordine pubblico, per se dare una rivolta, un'azione di ordine pubblico, appunto, che gli garantì l'ottenimento di una medaglia di bronzo al valore militare. Quindi anche già in tempo di pace Pugliese fu particolarmente attivo, particolarmente valoroso, dimostrò una propria anche capacità e coraggio nell'espletare il suo compito. La sua carriera avanzò fino a quando, da capitano, partecipò alla guerra italo-turca, prima in Libia e poi nel Dodeganeso. tra l'altro, in quella circostanza, nella battaglia delle due palme, una battaglia piuttosto importante, per chi conosce, chi si intende di storia militare lo sa, sicuramente è una delle battaglie più importanti terrestri della guerra di Libia, anche se la guerra di Libia poi si sarebbe caratterizzata per alti e bassi, per momenti di distasi e momenti di grossa dinamicità, ebbene, per questa battaglia Pugliese, che era capitano, comandava una compagnia, venne decorato della croce di cavaliere dell'ordine militare di Savoia, che era uno dei principali ordini militari di categorie, di onorificenze da poter dare agli ufficiali. Quindi rappresentava veramente un punto importante anche per la sua carriera. Tanto è che proprio questa partecipazione alla guerra di Libia e questa grande onorificenza che gli venne tributata offrì alla comunità ebraica italiana di onorarlo e di fargli omaggio di una spada d'onore, una spada d'onore che voleva appunto certificare come la comunità ebraica italiana fosse devota, fosse partecipe delle gioie militari di un così importante suo esponente in relazione all'affratellamento, alla senso di identità e di emancipazione piena degli ebrei all'interno della nazione italiana. Questo riconoscimento tuttavia non fu esente da critiche o quantomeno da riserve, perché? Perché proprio in quel periodo la comunità ebraica italiana stava vivendo un momento di dubbio, più che di ripensamento, di riflessione sulla propria identità culturale, religiosa e patriottica. Perché? Perché sin dai primi del secolo si stava evolvendo, stava prendendo piede il sentimento sionista che dava un certo spessore, un certo substrato anche culturale, politico, sociale all'idea di una comunità sovranazionale degli ebrei per la creazione di uno stato indipendente per la popolazione ebraica. E quindi l'idea che Pugliese fosse reso così un simbolo dell'ebraismo italiano rappresentava per una parte dell'ebraismo nazionale un qualcosa che stonasse con l'idea di poter affrancare gli ebrei dalle nazionalità, quindi poter avere l'idea di un ebraismo autonomo che potesse rappresentare qualcosa di diverso rispetto alle comunità nazioni. Questo perché? Perché nella guerra di Libia e successivamente anche nella prima guerra mondiale vi furono taluni che criticavano la possibilità che ebrei potessero uccidere altri ebrei. Nel quel caso della guerra di Libia ebrei italiani contro ebrei turchi, nel caso della prima guerra mondiale essenzialmente ebrei italiani contro ebrei dell'impero austro-ungarico, che appunto, come sappiamo, l'impero austro-ungarico o la sua forte differenza sociale, religiosa, linguistica, etnica, eccetera, rappresentava veramente un cuocerbo di entità diverse. E questo era un elemento che comunque era presente, seppur minoritario, all'interno della comunità in Italia. Nonostante ciò, Pugliese, che era assolutamente contento, assolutamente orgoglioso delle sue medaglie, delle sue riconoscimenti militari, ma anche di questo riconoscimento da parte della comunità religiosa da parte di Enza, proseguì la sua carriera. Nel 1915 era arrivato alla grado, era sempre capitano, con la nomina di primo capitano. Primo capitano è un'attribuzione che veniva data dei capitani che avevano una certa ansiedà di servizio. Pugliese nel 15 è capitano, nel 18, alla fine della prima guerra mondiale, è addirittura comandante di divisione, quindi rappresenta veramente un carrierone, ha fatto una carriera molto importante, con una serie intramizzata, questa carriera intramizzata, una serie di promozioni per mera di guerra, quindi rappresentava veramente un fegataccio, uno che aveva competenze operative, di comando, di gestione degli uomini, e queste onorificenze, queste missioni, queste promozioni di guerra, gli vennero date sempre al fronte, non fece mai attività di comandi dietro le linee, non partecipò mai a attività di comando supremo, come molti altri, per dire Badoglio, Gazzera e altri personaggi che avrebbero fatto carriera da lì fino alla seconda guerra mondiale, senza aver per qua poco nulla comandato truppe al fronte. Pugliese lo si ricorda essenzialmente nella sua attività come maggiore tenente colonnello al comando di un battaglione del 151esimo reggimento di rifanteria Brigata Sassari. Per chi, come dicevo, conosce la storia militare, la Brigata Sassari è una delle brigate delle grandi unità più decorate dell'esercio italiano, che rappresenta veramente il non plus ultra del valore militare, e Pugliese contribuì alla grandezza della Brigata Sassari sugli altopiani, sul Monte Zebbio, sulla famosa Battaglia delle Frasche, che fu una battaglia molto importante in cui veramente si tenne testa alle possibili avanzate austriache, dove ovviamente la fanteria dava il segno tangibile di come fosse veramente la regina delle battaglie. Tra l'altro questa sua esperienza come comandante all'interno del 151esimo reggimento fanteria Sassari, del Brigata Sassari, sarebbe stata nel 1961, il 4 novembre del 61, trasposta a livello cinematografico, il 4 novembre è una data molto importante, nell'inaugurazione, nello sceneggiato La Trincea, che probabilmente ricensirò in futuro, nell'inaugurazione delle trasmissioni del secondo canale RAI, quindi rappresentava anche qualcosa di molto importante a onore di Pugliese che se ne parlava ancora nel 61. Ebbene, quindi Pugliese continuò la sua carriera e proprio al 151esimo reggimento fanteria conobbe un tenente, un giovane tenente, Emilio Lussu, che sarebbe diventato un personaggio molto importante della scena culturale e soprattutto politica italiana dagli anni venti in poi, che appunto per la sua anche capacità rappresentava un personaggio anche da militare subordinato, da ufficiale subordinato, come potesse essere, e appunto avrebbe dimostrato con il suo piglio combattivo, il suo piglio polemico, il suo piglio appunto di antifascista tra gli anni venti e gli anni quaranta, poi anche nella sua attività politica in Epole rubblicana, veramente una verve di grande uomo politico. Ma tornando a Pugliese, Pugliese proseguì la sua carriera militare, venne promosso colonnello, poi comandò un reggimento, tra cui un reggimento della brigata Ravenna, prima di divenire comandante interinale e poi effettivo della brigata Ravenna, passando per i gradi di colonnello brigadiere e poi di maggior generale. Nel frattempo con la Ravenna passò da Lisonso al Piave, proseguì le sue attività di grande comandante, fino appunto ad essere nominato comandante di divisione. Quindi alla fine della Prima Guerra Mondiale, per lo strascico che vi fu con il periodo in Albania, appunto dove il 18 rappresenta un po' una data non indicativa per la prosecuzione del conflitto, al di là dell'Adriatico, quindi Pugliese proseguì la propria attività, tant'è che oltre alle produzioni di guerra, ottenne nel frattempo anche la croce di ufficiale dell'Ordine Milare di Savoia dopo aver preso qua di cavaliere, e poi quella di commendatore dell'Ordine Milare di Savoia, proprio per la sua attività in Albania. Arriviamo ai primi anni venti, quando Pugliese è stabilmente nominato comandante di una divisione e nel 22 si trova a essere il comandante della divisione militare territoriale di Roma. Sappiamo benissimo che il 22 è un anno delicato, siamo alla vigilia della marcia su Roma, e Pugliese, comprendendo, essendo ben consapevole dei rischi che la capitale può riscuotere all'interno di un certo discorso di sommovimento, di possibile colpo di Stato che viene con fronte dei governi, gli ultimi governi liberali, organizza, promuove un piano di difesa molto articolato che non deve riguardare solo esclusivamente la città di Roma, ma deve riguardare intero centro Italia. Perché? Perché se le milizie anche un po' raffazzonate, armate alla bene e meglio dei fascisti che arrivano dalle varie parti d'Italia, da Napoli, da Milano, da tutte le località possibili, a Raggera, intorno a Roma, egli organizza, almeno tenta di organizzare una difesa molto dilatata che possa bloccare le arrivi, ma anche e soprattutto attraverso i treni, nelle quattro direttrici ferroviarie di Civitavecchia, di Orte, di Tivoli e del Basso Lazio, quella linea che andava a Napoli. In quel momento lui era sì comandante della divisione di Roma, ma era altresì comandante interinale del Corpo d'Armata di Roma. Perché? Perché il comandante effettivo in quel momento era assente. Pugliese è assolutamente convinto della fedeltà dei propri uomini, lui è assolutamente convinto che nonostante possano essere delle simpatie dei militari, dei militari di truppa, nei confronti del fascismo, il dispositivo militare a difesa sarà valido, reggerà a qualsiasi situazione. E questo lui lo dice in maniera palese e chiara a tutti i suoi comandanti. E quindi, nonostante vi fosse questa certezza, che va un po' in controndendenza rispetto agli altri rumors che volevano che in qualche modo non era il caso di mettere alla prova le truppe a difesa di Roma, sarà di fatto che il governo e il re, sostanzialmente, decisero di allargare le maglie della difesa di Roma e far entrare Mussolini, affidando l'incarico di governo. Pugliese accettò questa situazione come un militare, quindi lui non doveva rendere conto al re, il re aveva deciso che Mussolini sarebbe stato il nuovo capo del governo e per lui andava bene così. Non aveva un pregiudizio a livello morale, lui poteva condannare, lo scrive, l'avrebbe scritto, poteva condannare il fascismo come sovvertitore dell'ordine costituzionale, ma dal momento che era diventato esso stesso l'ordine costituzionale per lui andava bene. Tant'è che dopo la marcia su Roma vennero attribuiti anche la partecipazione o anche meglio l'organizzazione di una festa, di un banchetto in onore di Mussolini e dei fascisti, ma lui non ne aveva nessuna competenza, non aveva nessun interesse, anche perché era al di fuori di qualsiasi possibile competizione politica. Intanto la sua carriera proseguì, venne nominato comandante di un corpo d'armata, divenne comandante della regione militare di Sardegna, tra l'altro era un intellettuale, quindi scrisse anche diversi libri sulla storia militare, sulla geografia militare, quindi aveva un certo retroterra anche di supporto di grande intellettuale. Fino ad arrivare alla messa in riserva, essendo comunque anziano, arrivò il 1938, l'anno orribile, in cui essendo ebreo venne congetato anche da ruolo della riserva. Visse quindi il periodo della Seconda Guerra Mondiale, nonostante avesse ottenuto il titolo di discriminato, ossia un titolo meritorio che avrebbe in qualche modo, rispetto alla normativa antiebraica, ridotto delle limitazioni e che comunque lo consideravano sempre un elemento indesiderabile che veniva vessato, nonostante l'età avanzata, gli acciacchi dei saluti, gli vennero negati dei piccoli conforti che appunto gli erano necessari per la sua vita, lui e la moglie che avevano appunto tutta una serie di esigenze, gli vengono negati. Arrivò la liberazione di Roma, nel 1944, e nel suo piglio combattivo cercò di farsi arruolare nella brigata ebraica. Cercava di voler continuare a combattere e dare il suo contributo alla liberazione del paese, visto che i tedeschi erano in quel momento non solo i nemici dell'Italia, ma anche i nemici degli ebrei, quindi lo sentiva doppiamente coinvolto in questa lotta. Solo che la brigata ebraica era comunque coordinata, organizzata sotto al comando alleato degli inglesi, di conseguenza gli inglesi che erano poco interessati a una collaborazione degli italiani in questo senso, preferirono, in questo caso gli ebrei, preferirono destinare gli effettivi, prendere gli effettivi della brigata ebraica dagli ebrei che provenivano dalla Palestina, quindi in questo caso Pugliese non venne considerato. Arrivò il 1945, la fine della guerra, e per Pugliese però non si profilò un momento di riposo, un momento di pace, un momento di rilassamento, perché nel 1945 uscì in Italia un'edizione nazionale del libro La Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lusso, che lui ben conosceva da quasi 30 anni. Lusso in questo libro, che non voleva essere una ricostruzione storica, ma una ricostruzione essenzialmente politica, sparava a zero contro Pugliese, lo definiva veramente un prezzolato, un uomo viscido, un uomo che aveva fatto carriera con meriti non suoi, e questa cosa rendeva Pugliese veramente il sangue al cervello, non poteva pensare una cosa del genere. E di conseguenza iniziò uno scambio di critiche, di minacce, di invio di padrini, di voler fare un duello come ex ufficiali, quindi veramente un parapiglia, in cui ognuno si scriveva vicenda, tant'è che a un certo punto Lusso disse, in maniera sprezzante, che ci ricorda un po' il fassino dei nostri giorni. Se il generale Pugliese ha qualcosa da dire, scriva un libro. Ne avesse mai detto? Pugliese nell'arco di pochi mesi scrisse un libro in cui contestava tutte le posizioni di Lusso, lo accusava a sua volta di essere un manicordo, di voler spargere fango a destra e a manca contro un valoroso soldato, un valoroso generale che aveva anche dato la sua stesso corpo, era superinvalido, quindi aveva una serie di menomazioni che lo avevano portato anche a dei problemi di salute. Sta di fatto che nel giro di 10 anni, tra il 45 e il 15 anni circa, dal 45 al 60, c'è questo scontro verbale di articoli giornali, che poi si montarono anche delle fazioni tra i due che, diciamo, più la sinistra che corroborava le posizioni di Lusso, mentre una parte più conservatrice che corroborava la parte di Pugliese, quindi ci si trovava a fronte a uno scontro veramente anche cultural-politico a supporto delle due posizioni. Di fatto che vennero fatte anche delle inchieste ministeriali che cercarono però in maniera salomonica di risolvere la cosa, visto che comunque Lusso aveva nel tempo anche dei ruoli politici di governo non indifferenti. Sta di fatto che alla fine la situazione si andò scemando più per forza di inerzia che per volontà dei due, la sinilità apparteneva a entrambi, quindi si andò un po' a smussare gli angoli di questo scontro feroce e vale la pena commentare le ultime parole di Lusso che in qualche modo andarono un po' a un ripensamento della sua posizione un po' forse troppo critica, un po' troppo facilora. E quindi ecco così come Lusso scrisse nel 60, lealmente devo dire oggi, dopo approfondite indagini, che il generale non ha fatto cobbetire disciplinatamente ad ordini ricevuti e non era fatto in combutta col fascismo. Questa fu una, seppur ritardataria, seppur troppo lontana negli animi più accesi degli anni 50, in cui appunto fine anni 40, anni 50, in cui veramente ci fu uno scontro tra titani di questi due personaggi, cercò un quanto meno di rassenerare un po' gli animi. Pugliese ebbe questa quasi sul punto di morte, Morini al 67, quindi diciamo ormai era molto anziano, molto stanco, non aveva più la verve polemica che poteva aver avuto, oltre al libro che aveva scritto appunto sulla cosiddetta Marce su Roma, l'avrebbe scritto nella fine degli anni 50, il 58, io difendo l'esercito in cui appunto affermava la piena fedeltà delle istituzioni militari a casa Savoia, non potevano essere vociferate dei promiscuamenti delle bassezze nei confronti di un appoggio così smodato, così poco costituzionale nei confronti del fascismo, che per lui appunto era in quel senso il massimo del disprezzo dello stato di diritto, quindi solo quando il re aveva accolto Mussolini diventava stato di diritto, prima non lo era affatto. Ecco qui come la figura di Pugliese secondo me rappresenta veramente un senso morale, ovviamente Pugliese ha vissuto momenti diversi, ha vissuto il periodo del mondo, la società, lo stato liberale, lo stato fascista, è morto, ha vissuto gli ultimi per più di vent'anni in uno stato nella Repubblica Democratica, avendone anche gli ultimi riconoscimenti di ordine morale, venne decorato il cavalierau di Gran Croce dell'ordine della Repubblica Democratica, quindi anche dopo la Seconda Guerra Mondiale ebbe i suoi titoli, i suoi meriti e i suoi riconoscimenti. Quindi però volevo parlarmi perché rappresenta un qualcosa di importante, di qualcosa di alto, di nobilitante e vi invito, se avete l'interesse di approfondire, io ho scritto molto su Pugliese, oltre a questo mio libro che è il primo libro scritto nell'antico 2008, ho scritto una biografia di Pugliese in questo volume, edito da Nuova Cultura e l'Istituto del Nastro Azzurro, tra l'altro questo è il diploma d'onore del Nastro Azzurro dato a Pugliese e tra l'altro per chi vuole una mia biografia è stata scritta anche per la Treccari sul dizionario biografico degli italiani, quindi Pugliese per me è molto importante e ho piacere che venga conosciuto, venga sempre più apprezzato perché comunque per la sua anche appartenenza ebraica ha rappresentato nei momenti più bui della nostra storia nazionale un desiderio di riscatto, di voler comunque appartenere alla patria italiana e questo questo qui vale sopra ogni cosa. Io vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace al video, iscrivetevi al canale e alla prossima biografia o recensione di film. Ciao!